Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel salone della classe dei miei nonni. Ho levato l'albero, mi manca già, perché l'hanno levato. E comunque, vi mostrerò come, diciamo, tra virgolette, guido una macchina da corsa. Questa qua è una delle Oculus, una macchina precorsa. Diciamo che è una macchina che va molto veloce, diciamo, che è anche, è veloce, cioè, è molto veloce, ok? È anche da corsa e per far andare ancora più veloce basta levare il pezzo di sopra e, diciamo, così c'è la più, più aerodinamica. Io mi rimetto tutte le due le poste, diciamo, senza e con l'aletta qua. Che si può anche regolare, se la volete ne provare, cioè, la volete far andare più veloce, basta levare questa cosa qui, no? Sentirete un click e l'aletta si abbasserà e saprete che la macchina è pronta per leggeare. Io mi favo in tutte e tre le modalità, prima l'aletta alzata, poi l'aletta bassa e infine senza l'aletta. Ok ragazzi, prima di, prima di, diciamo, di farvi vedere, voglio dire che questa macchina si può, questa auto telecomandata si può, questa macchina telecomandata si può, questa macchina telecomandata si può, ah, 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 quella, ah, quelle non ricaricabili, quelle non ricaricabili, perché poi si devono cambiare, ovviamente. Poi io, per farò una ancora più veloce, l'ho modificata mettendogli all'interno, una batteria a litio, che ho anche, diciamo, come devo dire, ho, come posso spiegare, ho, 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 ho rischiato, ah, ok, ho rischiato, mettergli, ho rischiato anche, però io l'ho messo satsitù, vedere da qua dentro, questa cosa nera, protezione, ok, dove farò vedere in tutte le modalità come ho detto prima e niente non mi farò vedere va bene scusate anche per la scarsa qualità del video però sta a casa dei miei nonni quindi non posso farla con la telecamera vabbè ok ragazzi la macchina sta qua ora accenderemo e comincieremo a farla la cosa di quanto la veloce non si vede tanto bene così in questo modo diciamo che è anche molto la becca che il telecomando c'è sti cosi praticamente vedete come sono quando spingete fanno male comunque se come le come arrivato da poco diciamo praticamente sto vedendo che nelle curve questa macchina molto veloce per scopare a sinistra devo mettere le ruote a destra non solo ben amato motivo però visto che funziona le cose più due bisogna diciamo più caldo ora faccio vedere come in realtà dovrebbe girare ora faccio un casino dell'amidone ora diciamo che avremo lo slalom lo slalom molto morbido diciamo che è un bel non è un malo non è un malo non è un malo ma non è un malo invece faremo questo anche molto forte l'auto vabbè fino a pure funziona vabbè ragazzi certo questo è tutto il video non è avuto molto bene vabbè però quello che potevo fa l'ho fatto un prossimo video vabbè 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 vabbè